Come va? Buon benissimi quest'oggi! Abbiamo qua al campo un grandissimo campione nonché il Mini Mbappé Sei troppo? Facci vedere quanto fa là Mi chiamo Leonardo Dingeo e ho otto anni e quasi nove Che squadra tipi? Juve Da quanto tempo giochi a calcio? Tre anni, questo qua è il quarto Dove giochi? Nel Toro Chi preferisci? Zap o Dig? Tutti e due Grande! E chi sei per noi oggi? Mini Mbappé Allora Leo, ci hanno detto che la tua arma segreta per segnare è la sporbiciata sotto al 7, è vero? Ci la fai vedere? Proviamo, dai! È one shot, cioè hai primo tentativo Qu'è approdi? Nel Toro Vediamo Per Presidente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti